Le macchine ufficiali Fiat Cini, la fissetta meccanica della Selle Italia Casolani, tra poco avremo il passaggio, un chilometro in passaggio, gruppo compatto. Grazie per la visione! Mi rende il passaggio? Ed eccolo qua, con un po' troppato. Secondo passaggio qua sotto di noi. C'è Gotti che conduce, per favore, liberate i numeri per poter rilevare i passaggi per guardi volanti campi della montagna. C'è Gotti che conduce, per favore, liberate i passaggi per guardi volanti campi della montagna. C'è Gotti che conduce, per favore, liberate i passaggi per guardi volanti. Ancestoporto numero 6, presso di Nacca Cera e del passaggio di Cana Monte. Ancestoporto numero 6, presso di Nacca Cera e del passaggio di Cana Monte. Ancestoporti? Ancestoporti? Grazie a tutti.